Il nuovo patto del Nazareno sembra prevedere essenzialmente due cose. La prima, la più importante, è l'assegnazione del primo di maggioranza alla lista e non più alla coalizione. Questo è un elemento di grande momento e grande importanza. Perché? Perché ha un impatto molto significativo sul sistema dei partiti, da un lato, e ha anche degli effetti di carattere sistemico sul sistema politico per quanto riguarda l'espressione del voto da parte dei singoli elettori. Cosa significa? Nel momento in cui il premio va soltanto alla lista che ha vinto l'elezione e non più alla coalizione, ciò spingerà gli elettori a preferire una lista. Gli elettori che non vorranno utilizzare il proprio voto solo per avere rappresentanza, ma anche per influire sull'assegnazione del primo di maggioranza, dovranno scegliere una delle liste in grado di vincere quel premio. Questo è il principale effetto sistemico sotteso a questa modifica. Un effetto sistemico che ovviamente non può che andare ad avvantaggiare, almeno nelle intenzioni anche dei proponenti, i partiti di maggiore dimensione, il PD, Forza Italia o il Movimento 5 Stelle. Il secondo punto riguarda le soglie di sbarramento. Prima però è necessario da questo punto di vista una breve precisazione. Cioè, nel momento in cui non esiste più la coalizione per l'assegnazione del primo di maggioranza, mi sembra assolutamente evidente che non potranno più esserci soglie di sbarramento differenziate tra partiti coalizzati e non coalizzati, perché è la stessa coalizione che non ha più senso di esistere. A questo punto ci vorrà la riduzione delle soglie di sbarramento a una soltanto. Quale sarà il livello di questa soglia? Qui è difficile dirlo. Non c'è una grande ragione teorica per cui una soglia del 5% sia migliore, intrinsecamente parlando, di una del 3%. Il problema fondamentale è piuttosto di carattere politico. In che senso? Nel senso che chi oggi vuole portare avanti questo impianto di riforme, sia della legge elettorale sia anche di quelle costituzionali, non può non tenere presente il fatto che vi è una maggioranza di governo e chi fa parte della maggioranza di governo non vuole essere tagliato fuori dal discorso delle riforme. Per cui è molto facile che la soglia di sbarramento che in concreto verrà utilizzata sarà quella che permette a chi fa parte del patto di maggioranza di avere futura rappresentanza in Parlamento. Questo tra l'altro, da un punto di vista sistemico, non è neanche scorretto perché fare una nuova legge elettorale che va sicuramente a ranneggiare qualche formazione interna al Parlamento può essere anche considerato come una manovra scorretta di eliminazione della rappresentanza di alcune voci all'interno del panorama politico. Grazie a tutti.